Alla, si parte dal lavoro della schiena, collo collo, scappare un po' e poi tre sfregamenti e da qui si comincia prima tecnica è il rocking il primo è rocking poi seconda tecnica prima c'è la rotazione semplice della spalla in avanti e indietro poi impasto i punti intestino 15 è triplice e poi mentre impasto ruoto tirando su i punti terza tecnica l'u e rofa la prima è salutare la scimmia saluta compressione su 21 midiare e posso anche mobilizzare mentre trovo il punto poi coprire devo cercare il punto in cui allenta e posso entrare poi cerco oppoggio la mano con la mano tenue con la mano intestino tenue 9 e poi la scimmia che nasconde la mela io gli vado a prendere la mela dietro tenendo la mano e lavoro sul triplice 14 sotto la cromia quattro impastamento e scollamento dei deltoidi bau fa e poi nie fa prima sull'esterno precipite poi cambio mano interno sul polmone braccio e avambraccio sesto trazione scuotimento con oscillazioni lu fa e dou fa devo far salire il vomito settima sfregamento quo fa devo scaldare quindi non essere frettoloso fare bene ogni ogni zona ok ottavo estensione flessione rapida del polso tim fa e q fa tim q il pesce nono trazione estensione e schiocco delle dita ba tin bashen fa ba tirare tin estendere bashen fa schioccare 10 impastamento dei punti dei meridiani yang raufa su 21 biliare occhi della spalla triplice 14 e crasso 15 intestino del vomito lato esterno triplice 5 intestino grasso 4 e tenue 3 impastamento 11 impastamento dei punti dei meridiani sempre raufa su cuore 3 mastro 3 polmone 5 mastro 6 12 percussione pai fa parte alta cuo fa ai pugni vuoti braccio pi fa a taglio sull'avambraccio mi ricordo dalla scella 3 si mi ricordo dalla scella 13 sfioramento e sfregamento yin yang shun fa parto dalla scella e poi ritorno su yin yang mire te e e mire n You